Nessuna svolta per l'avvertenza ExoChan, un nuovo operatore economico è pronto ad investire nel sito di San Nicola di Melfi ma resta da sciogliere il nodo degli ammortizzatori sociali. Intanto per domani è stato convocato un nuovo tavolo in prefettura, i particolari con Linda Dorigo. Chi va per me sono i lavoratori. Cioè il sindacato, la regione praticamente, loro il giorno di Natale hanno mangiato. Noi no, siamo stati scoperti dallo stipendio. Scemano le speranze anche tra gli stessi lavoratori dell'ExoChan di Melfi. Tavoli, trattative e promesse in due anni di vertenza non hanno mai smesso di credere in una svolta. Dal primo gennaio non ricevono più gli ammortizzatori sociali e molti sono costretti ad indebitarsi o a chiedere un aiuto economico a parenti ed amici. In prefettura Potenza questa mattina un incontro ha messo nero su bianco una situazione portata all'estremo dai rimpalli di responsabilità tra il datore di lavoro, il consorzio Cisa, e Margherita, subentrata ad Oshan. È titolare del subaffitto del sito industriale fino al 2024. Le premesse per il riavvio ci sono. Un nuovo soggetto imprenditoriale ha dato garanzia di subentro nel polo logistico. Si stanno valutando gli investimenti da realizzare che potrebbero essere sostenuti anche dal bando di reindustrializzazione regionale da 8 milioni di euro prorogato al 31 marzo. Ma il nodo centrale restano i salari durante la fase transitoria. Quella che in attesa del subentro del nuovo soggetto imprenditoriale possa assicurare condizioni di gestione delle politiche salariali. Le parti sociali propongono la cassa integrazione fino all'avvio delle attività. Ma è necessaria una garanzia contrattuale da parte del nuovo soggetto imprenditoriale che ancora non è stata siglata. Resta la speranza che da questa vertenza tra le più importanti in regione possa nascere l'opportunità di una ripresa lavorativa.